buongiorno monte delle tre croce oggi è un giorno maestoso oggi è un giorno glorioso e un giorno anche vittorioso se tutti quanti ci uniamo a maria la luce santa della via dove tutta arriva e così sia amen alleluia dio vi benedica tutti il signore è già in partenza vincente perché lui ha già vinto ma lui intende la vera vittoriosa la via vittoriosa se tutti vico tutti assieme allo sposo cioè allo spirito santo è lui tutta la vittoria dell'eterno campo dove nessun uomo avrà via di scampo dove sarà per tutti vi ripeto per tutti l'eterno campo cercate la luce cercate la pace cercate la porta stretta e di entrare molto in fretta perché è nato la diretta dove dio vi aspetta amen alleluia alleluia per la fine a tutta la vana terra bulla alleluia 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 Grazie a tutti.